Il proprio paese, sacco e panzetti avevano lasciato per un mondo migliore nella lontana America emigrati, sperando che un giorno l'anarchia non fosse solo un sogno, un'utopia. Sacco e panzetti, per ideale, sognavano per tutti un mondo uguale, un mondo per l'intera umanità, di pace, amore, giustizia e libertà. Nel nuovo paese trovarono razzismo ed oppressione, come cani trattati conobbero la fame e la prigione, sotto quel manto di democrazia, lotta di classe e tanta ipocrisia. Sacco e panzetti, per ideale, sognavano per tutti un mondo uguale, un mondo per l'intera umanità, di pace, amore, giustizia e libertà. Di grave rapina, sacco e panzetti furono accusati, sulla sedia crudele, furono inciustamente condannati, senza nessuna colpa, senza nessuna colpa, processati, senza nessuna prova, assassinati. Sacco e panzetti, per ideale, sognavano per tutti un mondo uguale, un mondo per l'intera umanità, di pace, amore, giustizia e libertà.